October è iniziato anche sul mercato delle criptovalute, anche nel 2023 si andrà a configurare un altro mese di ottobre positivo dopo la serie storica che avvantaggia solitamente il mese di ottobre per quanto riguarda il mercato delle criptovalute. Nella giornata di ieri a mezzanotte, a dire la verità, quindi è la giornata di oggi, Bitcoin ha fatto un super pump leggero, ovviamente lo super pump di questi tempi, chiamiamolo così, di qualche punto percentuale, andando a intaccare quella che era sostanzialmente una resistenza importante, ha fatto un super up che lo ha portato sul successivo livello di resistenza. Bene ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, andiamo a guardare un po' quello che è successo nella giornata di ieri, quali sono le statistiche di questo nuovo mese che è arrivato, che insomma sta iniziando e ce ne sono di tante cose belle da dire, facciamo anche analisi ciclica sui mercati perché un pochino delle cose devo farvele vedere, soprattutto se si va a configurare una touch di un livello, quindi breakout di un livello da parte di Bitcoin, potremmo avere anche una sorpresina ragazzi, una sorpresa non da poco, che dovremmo andare a ragionare e che impatterà per tutti i mesi fino a dicembre del 2023. Quindi mi raccomando ragazzi, occhi aperti, io lancio la moneta, addirittura ho toccato il tetto, la moneta ragazzi dice che le probabilità ci stanno insomma in questo caso, va bene? Ma a proposito della moneta, volevo parlarvi anche di una cosettina prima di andare al video, leggerissima, è uscito un cortometraggio sulla mia persona che è stato girato a maggio scorso ragazzi, da i ragazzi di Byfarm e di CryptoEntity ed è veramente meraviglioso, vi lascio il link in descrizione, stanno facendo questo bellissimo progetto con una serie di criptometraggi, li chiamano così, e sono sostanzialmente delle riprese che riguardano la storytelling, insomma, visto da un punto di vista non cripto ma personale, è di alcuni personaggi, hanno già fatto quello di Lugano, hanno fatto il mio, ci saranno anche altri personaggi che fanno parte del settore delle cripto, ma non solo ragazzi, quindi andatelo a vedere, vi lascio il link in descrizione, dura pochissimi minuti, ma è uno storytelling meraviglioso, ringrazio Pier, Lorenzo e Ermanno che sono scesi, abbiamo scelto una location, sono venuti a registrare con me, siamo stati insieme tre giorni a bere e a mangiare, oltre che a fare le riprese, è stato veramente un lavoro bellissimo, quindi grazie di cuore per l'attenzione, soprattutto la professionalità dimostrata, tra l'altro sta piacendo veramente a tutti, quindi mi raccomando questa cosa, datela a vedere. Allora vi faccio vedere le statistiche dei mesi di Bitcoin per farvi capire perché October è stato definito October, October perché sostanzialmente come si vede è un mese a forte matrice rialzista, e qui non riesco a farvi il sottolineato, però in pratica ha avuto solo tre mesi, tre anni, un mese rosso, di cui quasi tutti sono negli anni a venire, e poi solo il 2018 nel bear market 2018 è stato realizzato meno quattro, quindi anche poco consistente come fase di bastista, l'unico consistente è addirittura risale al 2011, quindi molto lontano dai tempi attuali, gli altri sono tutti verdi, ora in questo caso azzurrini da questa tabella, però sono verdi e soprattutto solitamente questo tipo di mese è un mese alla buona matrice di stampo rialzista per una serie di motivi. Anche questa volta la questione di Bitcoin si è andata a innescare in termini proprio di fase rialzista all'inizio proprio del mese, vi faccio vedere la candela mensile, e perché io in un thread fatto ieri mattina proprio su Twitter, trovate il link della descrizione ragazzi, andateli a vedere perché sto pubblicando delle analisi anche lì, e dei vocali e anche altre analisi che pubblicheremo anche su Telegram, per aumentare, per stare un po' più sul pezzo, ho deciso di fare un po' di analisi spot anche su questi canali che ci permettono di avere delle analisi più veloci rispetto a YouTube, che dobbiamo appunto creare un video per intero, e quindi andateli a vedere soprattutto anche Twitter che gestisco io personalmente, vi lascio il link in descrizione, su quel thread io ho indicato ieri com'era probabile, che la probabilità era molto alta, che il prezzo andasse a breccare il livello dei massimi della candela del settembre 2023, candela che aveva i massimi a 27.004 prezzi di Bitstamp. Ora, il breakout di questo livello di massimo ha sempre innescato ragazzi una pump rialzista, poi magari viene riassorbito e questo è il vero dubbio, essendo oggi 2 di ottobre, un po' il dubbio c'è da questo punto di vista ragazzi, che questa fase di pump e posso andare in pratica ad essere una fase di pump che poi dura poco. Allora, io su quel thread specifico un po' di cose, andatelo a leggere, non mi ripeto così, poi magari lo facciamo man mano. Intanto, prima di passare a questo grafico, che è il primo che vedremo oggi, vi faccio vedere anche brevemente, perché non c'è granché da dire, le news di questa settimana, focalizzerei l'attenzione sul discorso di Powell di oggi pomeriggio alle 17, se smuove un po' le acque, poi abbiamo mercoledì una carrellata di dati, i più importanti sono l'ISM e non il manifatturiero, ma ancora diciamo abbastanza positivo, e poi il discorso della Garda, che però avete capito un po' quanto lascia a desiderare l'Europa da questo punto di vista per il movimento dei mercati. Richiesta di disoccupazione il giorno giovedì 5 ottobre, che però previsti in pratica in linea non dovrebbero smuovere il nulla, e poi il vero vero dato, solo se c'è uno shock ovviamente, è il tasso di disoccupazione di venerdì 6 ottobre per quanto riguarda gli Stati Uniti. Per il resto non c'è granché questa settimana di dati che potrebbero muovere il mercato, quindi siamo andati in maniera molto veloce. Vi faccio comprendere invece il grafico di Bitcoin e la questione legata a ottobre del 2023. Il breakout di questo livello qui di resistenza, proprio in escato ieri, ha dato il via ad una serie di liquidazioni, di quelli che sono gli short selling che erano in atto. E la velocità con cui è andato a muoversi il prezzo è normale ragazzi, perché da una parte arrivano gli ordini di buy, soprattutto dei trading system, dei bot e delle automazioni, per il breakout di livello di resistenza, un classico sistema strategico, anche noi lo usiamo sempre in Academy. e poi l'altro livello sono l'accelerazione dovuta alla chiusura degli short, perché le posizioni in short che vengono liquidate sono tante, quindi vengono chiuse e in pratica assistiamo a questa storia del pump. Vedete, questo qui è una candela di 15 minuti che poi è avvenuto. Poi da qui in poi il mercato assume il suo naturale trend, fino all'esaurimento di questa forza, di questo spirale di movimento. Ora, il superamento di questo livello e l'accelerazione successiva è abbastanza semplice che avvenga questa cosa. Perché? Perché sostanzialmente non abbiamo scogli davanti. E poi c'è anche la questione del October, quindi questione riflessiva, emotiva, e poi c'è la questione del superamento dei massimi del mese precedente, che è una tecnica di trading, anche questa, estremamente utile e utilizzabile e che indica che in pratica noi andiamo a fare un massimo superiore al mese precedente. E in questo caso il trend mensile dovrebbe orientarsi al rialzo. Poi ci sono i fake e tutte le altre cose che vanno ovviamente gestite, altrimenti diventa poi troppo semplice, però è il gioco. Perciò, ragazzi, poi bisogna stare sull'attenti. Però un primo pump avviene quasi sempre, giusto per farvelo capire. Anche qui, guardate, questo è stato un mese, se non sbaglio febbraio, di poco conto, però avvenuto il pump, l'ha lasciato, la vedete disegnata. Questo significa che il mercato è arrivato qui, ha breccato i massimi, ha fatto il pump e poi è stato ritracciato. Questo è insomma chiaro. Qui invece è stato un pump confermato con una super candela verde, ed è qui è stato un breakout con un pump ritracciato nuovamente, vedete, mentre la candela rossa non arriva quasi mai, vedete, a breccare. Solo in questo caso, quindi in un caso di massimo, ha fatto un break, un mini pump leggero e poi è diventata rossa. Vedete, in questo caso, quindi, però, il pump lo fa quasi sempre, ragazzi. Perciò il fatto che sia arrivato a una fase rialzista di qui era abbastanza scontata. Talmente scontata che, come ho scritto anche sul post di Twitter, la questione era un po' attesa, no? Ed è stata svolta in pochi minuti, perché era troppo facile, sostanzialmente. Perciò in pochi minuti siamo arrivati subito dove dovevamo andare. Ma ci sono degli altri livelli di resistenza. Il primo è stato già raggiunto ed è sostanzialmente i 28.400. Lo indicavo proprio nel post di ieri su Twitter. Adesso veramente dovremmo chiamarlo. E lo trovate lì, ragazzi. Il successivo è questo qui che vi ho messo. 29.200 dollari. 29.200 dollari. Quando può avvenire? Se perché amo i 28.400, 28.400, 28.500. entro la giornata di oggi, domani massimo, potrebbe in effetti innescarsi questa accelerazione. E badate bene che io credo che questo tipo di accelerazione debba avvenire nell'immediato, non una cosa che prima ci riposiamo e poi acceleriamo. Altrimenti poi è tutto rimandato. Cioè rimandato dopo un'eventuale fase di ritracciamento che a quel punto dovremmo capire dove ci porta. Perché il mercato sta anche gestendo due ipotesi cicliche che sono differenti. E su questo ne dovremmo parlare nelle prossime giornate, ragazzi. Perché oggi nel video di oggi non riusciamo, in quanto stiamo analizzando la candela mensile. Però in effetti il superamento dei 28.500 e il raggiungimento eventuale dei 29.000 e qualcosa, quindi vicino ai massimi in pratica dell'anno 2023, porterebbe in auge, quindi farebbe sorgere, in realtà lo sorgere è risalire dalla sommersione, una ipotesi di cui non vi ho mai parlato a livello ciclico e che può essere estremamente importante. Perciò iscrivetevi ragazzi se non l'avete ancora fatto, lasciatevi anche mi piace per questi super video di update e poi soprattutto in questo modo spingiamo Bitcoin. Quindi più mi piace e più Bitcoin... Ok, questo è proprio un super clickbait, un super messaggio, diciamo, di call to action. Va bene, allora, qui vi ho disegnato invece la struttura dei cicli di questa struttura mensile di Bitcoin. Siamo nel secondo ciclo bisettimanale, quindi nella seconda parte del ciclo mensile di Bitcoin. Oh mio Dio, che cosa sta succedendo? Ok, eccolo qua. Ci siamo e teoricamente stiamo andando a definire, come vi dicevo, i massimi del mensile di Bitcoin. Massimi che teoricamente appunto potrebbero proprio spingersi in questa zona qui. prima della chiusura eventuale del ciclo mensile di Bitcoin e poi creare un super punto interrogativo, terribile come disegno io, però c'è sul futuro pino a dicembre, di questo ne parliamo nei prossimi video. Però a livello di analisi ciclica nulla è strano, tutto assolutamente congeniale. Qui è una struttura di un nuovo ciclo mensile. Tra le altre cose, andando a breccare questo livello di massimo, che ancora non è stato confermato, ma più o meno, ragazzi, lo possiamo definire breccato perché è stato un po' più mantenuto. Vediamo se oggi chiude sopra il livello di massimi precedenti del mese di agosto, che era 28.140 circa. Se ci chiude, io direi che insomma, poi intanto a livello operativo siamo già operativi long, però a livello tecnico, a livello ciclico, potremmo dire che qui in effetti è stato iniziato, si è iniziato sicuramente un nuovo ciclo trimestrale. Questo significa un ciclo da 80-90 giorni circa, che però può avere anche dei risvolti, delle strutture differenti, ma questo insomma lo sapete, come da analisi ciclica insegna, ma che ci dà un'altra conferma, cioè il fatto che questo mensile sia rialzista, sposta tutto l'interrogativo al successivo mensile, successivo mensile che a quel punto ha solo una possibilità, cioè se siamo nel precedente annuale, allora deve ritornare a scendere, e quindi essere ribassista. Ma se non è così, se è successo un qualcosina di cui vi voglio parlare nei video successivi, ragazzi, allora potremmo addirittura andare a intaccare i massimi storici, e quindi il gioco lo si fa proprio su questi livelli, e per questo vi avevo anche pubblicato il video di ETH, della scorsa settimana, del quanto fosse importante assumere una posizione long, per non restare fuori su ETH, proprio nella scorsa settimana, perché era in procinto di andarsi a delineare una trappolona, chiamiamola così, che può essere una trappolona per tori o per orsi, è vero ragazzi, questo è sempre così, però in quel contesto specifico, in questo contesto specifico, era più pericolosa quella per gli orsi, e quindi bisognava essere contrari a questa situazione. Poi, in questo momento molti di voi che sono iper trader diranno, io qui metto le posizioni short, perché c'è la chiusura del ciclo mensile che deve avvenire, c'è un massimo toccato, giusto, tutto giusto, ma quello è trading, e può essere gestito con delle posizioni che se poi il mercato vi accelera, andate in stop velocemente, quindi quello è semplice da gestire, ma in questo caso la posizione corretta trend follower è comunque long, ragazzi, a prescindere quello non per le operazioni di breve, che si fa una cosa del genere, ma per le operazioni di medio, perché il mercato sta tentando di fare una nuova struttura. Ora, se questo livello regge e andiamo a chiudere il mensile, tutto rimandato, ma un po' poco forza. Se invece brecchiamo prima e poi andiamo a chiudere il mensile, allora cambiano le carte. Io mi aspetto la seconda ipotesi in questo contesto, per una serie di giochini che il mercato, secondo me, andrà a fare per sconquassare un po' le acque, rendere tutto estremamente difficile, e ci sta, ci sta, e mi piacerebbe vedere una cosa del genere, perché va a creare una figurazione interessantissima, anche a livello ciclico. La regina, poi tra l'altro di questa settimana, volevo anche dirvi, è stata Solana, che ha fatto dei gran numeri, ma Solana ha una struttura molto particolare, perché sta all'interno di una super barra di congestione, di cui vi ho parlato in un video di Solana, vi avevo detto anche che qui, probabilmente era, io non l'ho fatta la porzione, ve lo dico ragazzi, però vi avevo detto che c'era questa struttura cammello, no? Di Solana, e quindi potevamo sfruttarla a livello da trading, io non l'ho fatto, però così, a questo punto qui potremmo dire che, se c'è un mini segnale di debolezza, bisogna andare short, no? Per fare questo segnale cammello. Attenzione però ragazzi, perché questo livello di Solana, 31.000 circa, scusate, 31 dollari, è assolutamente rilevante, 27.31 questa fascia di pricing, perché se dovesse breccare quel livello, aspettatevi una fase totalmente rialzista, quindi un arrivo intorno a 42.37 minimo, per poi andare a gestire tutta questa fase. A quel punto Solana indicherebbe, uno splendido ciclo annuale così costruito. Guardate che meraviglia per gli amici dell'analisi ciclica, e sarebbe spettacolare, teoricamente, l'ultimo appettone di Solana. Mi sembra di aver detto tutto quello che vi dovevo dire, e l'unica cosa, vi faccio vedere anche ETH, e poi una piccolezza, veramente piccolezza, su Nasdaq, che però potrebbe avere una grande rilevanza per tante cosette. Allora, ETH, ragazzi, il nuovo ciclo trimestrale, iniziato dall'11 di settembre, e questo ciclo trimestrale, in pratica, si sta sviluppando in questa fase. Quindi, io ho indicato un 60-80 giorni, l'ho fatto un po' più corto, perché voglio tenermi in una posizione diversa, da Bitcoin. Ora, ETH è sul livello di resistenza, che qui è uguale ai massimi del mese di agosto, quindi il 29 agosto, ed è intorno ai 1730 dollari, superati, accelererebbe al successivo livello di resistenza, che sono i 1800 dollari circa, che è questa zona qui. attenzione che vedete che già solo il tentativo ha fatto accelerare, in effetti, un pochettino ETH. Successivamente, il superamento di questo livello lo riporta in una super barra di congestione, intorno tra i 2000 dollari e i 1800, quindi una super barra di congestione, e lì è la terra di nessuno, quindi lì, sostanzialmente, poi bisogna attendere. E, attenzione, perché un eventuale arrivo, secondo me, in questa zona, già è molto identificativo, che qui potrebbe essere iniziato, in effetti, il famoso annuale. Andatevi a vedere il video che ho pubblicato venerdì su ETH, se ne volete sapere di più, ragazzi, perché è iper approfondito, riguarda tutte le questioni cicliche di Ethereum, e soprattutto la questione annuale, sì, annuale, no. Detto questo, aspettiamo questa settimana per vedere quanto regge, se regge questo pump, l'ultima tecnica, che volevo, l'ultimo giochino, insomma, gioiellino, che volevo farvi vedere su, Nasdaq, la struttura ribassista di questa ciclo trimestrale di Nasdaq, come da attese, alla perfezione, quando Nasdaq, vi dicevo, ha fatto questo, 53 giorni, diciamo, un trimestrale molto corto, ribassista, dopodiché, è andato a creare una struttura, ribassista successivamente, perché non poteva fare altro, e vi avevo anche spiegato, che questa zona, se non riusciva, era molto pericoloso, se non riuscivo a ritornare sopra i suoi massimi, e poteva indicare, in effetti, proprio un'inversione di trend. Attenzione, perché potrebbe non essere finita, potrebbe mancare l'ultimo sciacquone, proprio, su Nasdaq, che va a chiudere l'intero ciclo annuale di Nasdaq 100, che è teoricamente previsto in close intorno ad ottobre 2023, questo mese, quanto potrebbe essere il ghiotto, quindi il mese di ottobre, lato crypto, ma anche lato old economy, per chi fa trading sui future del Nasdaq, investimenti azionari, eccetera, ragazzi, perché potrebbe portare il mese di ottobre, la fine di ottobre in poi, un bel minimone di Nasdaq, ghiottissimo per un nuovo ciclo annuale, che, guardate bene, ha tutte le carte in regola di rompere i massimi del 2021, lo sto, recessione, crisi, shutdown americano, bla bla bla, pricing, ragazzi, occhi puntati sull'unica variabile che non mente mai, il prezzo, il resto, tante carni al fuoco, poi ovviamente si può innescare, diciamo, la super spirale di Bastista, sappiamo a livello macro in che condizioni siamo, eccetera, però il prezzo è quello che lo speculatore, l'investitore deve sempre guardare, perché è quello che gli fa fare il gain. Buon inizio settimana a tutti, ci rivediamo nel prossimo video, ciao!